La Sardegna è ospite speciale al Salone del Libro di Torino, la più importante rassegna editoriale italiana giunta quest'anno alla 35esima edizione. Isola allo specchio, questo è il titolo della manifestazione, che fino al 22 maggio inviterà a scavalcare i muri della realtà per abbandonarsi al potere fantastico dei libri. E la Sardegna si specchia al Salone del Libro con 35 editori e oltre 30 eventi sotto l'insegna dell'Aes, associazione di categoria che partecipa alla Kermes costantemente dal 1988. L'Aes ha raccolto quest'anno l'invito a collaborare alla gestione degli aspetti organizzativi del progetto e dell'offerta culturale, incluso il concept della partecipazione istituzionale della regione, curando gran parte degli eventi con la Sardegna Film Commission. Lo stand dell'isola è stato inaugurato dall'assessore alla cultura Andrea Biancareddu, che ha definito la presenza della Sardegna come una grande opportunità per promuovere il patrimonio culturale della Sardegna, ma anche quello naturalistico, paesaggistico, ambientale, archeologico e storico, e ha suggerito di avere un libro come amico. Ad aprire ufficialmente lo spazio della regione Sardegna-Angedras, un omaggio a Grazia De Ledda, Sergio Azzeni, Giulio Angioni e Giorgio Todde, quattro autori sardi che hanno segnato la storia dell'isola, del paese e del Novecento.